I carabinieri scendono in campo contro il capolarato digitale relativo ai riders a tutela di questo lavoro, una campagna nazionale portata avanti dal nucleo tutela lavoro che il comando provinciale dell'Aquila ha raccolto immediatamente facendo dei controlli mirati. I carabinieri all'Aquila hanno ispezionato diversi punti di raccolta e controllato 20 riders. All'esito di controlli nessuna irregolarità, ma l'attenzione sarà alta proprio per vigilare sul lavoro che ha avuto un'esplosione enorme durante la pandemia e che, come gli altri, va tutelato. L'arma dei carabinieri è da sempre impegnata nel tutelare tutte quelle che sono le forme di problematiche, anche di rilevanza sociale. Tra queste rientra a pieno titolo quello che è sicuramente la tutela del lavoro sotto ogni sua forma. Ed è proprio in questo ambito che abbiamo avviato negli ultimi giorni unitamente al comando tutela del lavoro che è qui all'Aquila, ha la sua presenza anche con il nucleo espettorato del lavoro, una serie di controlli a diverse decine di rider. Per fortuna i controlli sono stati assolutamente positivi, nel senso che non abbiamo rilevato e riscontrato problematiche né dovuto sanzionare, soprattutto da un punto di vista di quelli che sono gli obblighi, da un punto di vista di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e di igiene. Il nostro obiettivo era anche quello di verificare la presenza nell'ambito della provincia di un particolare fenomeno che si è sviluppato, che è quello del cosiddetto caporalato digitale. Con la pandemia abbiamo tutti avuto modo di poter constatare che l'attività dei rider si è moltiplicata. Con questo ha anche un fenomeno particolare, che è proprio quello della creazione di account digitali anche attraverso documenti falsi, fatto da persone che poi in realtà mantenevano il rapporto di lavoro con le app di delivery, quindi con le piattaforme, ma poi materialmente il lavoro veniva svolto da soggetti non regolari e quindi non assicurati.